Hey yo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale, questo è Mauro che vi parla e oggi andiamo a reagire ancora dell'altro buon rap albanese, abbiamo Marine Blitz Qui ci spacchiamo ragazzi, me lo continuate a raccomandare e anche tantissime canzoni di questo Marine, quindi sono sicuro che mi spaccherò, sono sicuro Quindi iniziamo con un disclaimer che dice che tutte le armi usate in questo video sono finte, non sono state usate nessune armi da fuoco vere, quindi non vi preoccupate C'è scritto che la visione di questo è a vostra discrezione, loro non si prendono responsabilità, quindi se siete sul canale qui lo guardate, non me ne frega niente Scherzo, scherzo, scherzo ragazzi, se non siete forti di cuore non lo guardate, eh, vabbè, ma se siete forti di cuore non potrebbe essere nemmeno il Buddha, no? Quindi smettiamola di parlare e insegnatevi anche qualche frase, dai, insegnatevi qualche frase in albanese, assolutamente, così le incorporiamo, le incorporiamo durante le reaction e ci rendiamo un poco più internazionali, eh? Facciamo un po' il rap con Mauro, lo portiamo ad alti livelli, a livelli un po' di glottistici, se così si può dire Dai, andiamo a sentirci, Blitz! Vini in Sali Montana Aspetta, ci sono i sottotitoli Che lingua è? Aspetta Portoghese? Sì, ma non penso che siano giusti in portoghese Vabbè, facciamone a meno, dai Pazzo, si trattano bene, eh, si trattano bene, Bors, Gucci, Rolex Aspetta, torniamo un attimo indietro, vediamo cosa si sono persi Rolex Gucci Eh, boh, conosco solo quelle due marche Non l'ho mai, non l'ho mai avuta, non l'ho mai avuta in vita mia, però si conoscono, dai Danno, ma dove cavolo è sta rotonda assurda? È in Albania sta roba? Che cavolo di rotonda? Guarda, non sembra un buco nero Bors, bravo! Bors, bravo! Stasci un po' i carriere di un disman Oni sdome, hey, tu m'è mamma, no i den Mazzo, oh, quei candelabri Che lo manchi, no? Ma sempre che fanno questi video, ma è mai successo? Ma dovremmo fare la reaction a qualche fail A qualche fail, sicuramente ce ne saranno Dai, se ci stanno qualche fail Dei video rap che arrivano sempre, che si sporgono fuori dalla porta Che stanno con le armi Qualcosa che magari uno casca Ci facciamo due risate, sarebbe da farlo Sarebbe divertente, secondo me Che figata Eh beh, dai, eh beh, dai Questo cambio di switch Questo switch Non riesco neanche a parlare Cioè mi mettete davanti certe cose Non riesco neanche più a concentrarti Come fai a concentrarti? Come fai a concentrarti? Eh, questi switch nel beat Sono una roba pazzesca, eh Noi, no, no ahhh oh no tu puoi toccare la mia bmw bmw quello l'ho capito ma come cazzo ha fatto a fare quelle come si chiama born out quando fanno quella sgommata che si girano su se stesse le macchine lo fanno le moto mi pare ahhh ci piacciono i latine quella no e anche quella chi ha detto? cina cina ci piace la cina ci piace ci piace la cina vabbè lo so che non è cinese lui però rappresenta rappresenta REPRESENT hey hey perchè è un Aston Martin è un Aston Martin ma insomma hanno preso tutte le macchine hanno preso tutte le macchine dai film eh tutte le macchine dai film quello che cos'è non ho mai visto tipo un cos'è tipo un SUV un SUV della Mercedes lato dietro non so cos'è lato è un SUV però la più bella mi piaceva di più quella macchina arancione uuuu uuuu quello mi piaceva ancora di più uuuu 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 spinge questa spinge 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 e chi ha quanti no aspetta aspetta voglio vedere quanti orologi c'è però io non le conosco io non le conosco le marche io non le conosco le marche quello d'oro sembra un Rolex penso no? questo ho già visto questa marca però chi le conosce l'unico orologio che ho mai avuto io era quello che trovavo dentro gli uovi di Pasqua le uova di Pasqua anzi KURKUSH mamma mia sti beat Albanian Hits on Spotify no 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 non partire no lasciamolo qui magari questa è la prossima magari questa è la prossima eh Albanian Hip Hop on Spotify mamma mia quanto ci spacchiamo eh quanto ci spacchiamo eh quanto ci spacchiamo questo rap albanese l'avevo iniziato a reagire proprio per scherzo visto che praticamente ci stava in tutti i video di Baby Ken, di Jamil ma qualunque, qualunque sempre tiravano dentro gli albanesi dicendo Shiptani e tutto quanto allora ho detto senti va vederti i coglioni sempre che fate vedere questi albanesi sentiamo solo rap italiano ascoltiamoci anche un po' di rap albanese poi boh mi ha preso il via mi ha preso il via mazza oh stiamo stiamo diventando internazionali qui eh ci stanno un casino di albanesi vorrei imparare qualche parola insegnatelo dai se siete albanesi e state guardando questo video ditemi qualcosa fatemi sapere qualche parola così la integriamo e continuate a raccomandarmi roba che spacca del vostro paese perché qui mi sto mi sto spaccando davvero tanto ragazzi non sto scherzando eh mamma mia qui ci spacchiamo qui ci spacchiamo eh quindi spero che vi sia piaciuto il video lasciate un bel like e continuate a raccomandarmi altra roba che spacca e la andiamo a fare molto presto e non dimenticatevi soprattutto di iscrivervi al canale e attivare le notifiche ci vediamo alla prossima bella